Buongiorno a tutti ragazzi siamo qui su Cattimario Inizialo Sclero Io sono Kevin Laino Lo so che stavo facendo una questione ma ho visto che nessuno si è iscritto che ho fatto solo il video e nessuno ha consigliato niente e dicevo io facciamo Cattimario dai come vi faccio la perimetria dentro di lo sclero porca troia ok iniziamo spero di lo sclero di tanto e allora iniziamo siamo su Cattimario vi ricordo a tutti cosa cazzo è successo? sono volato ma dio prima era acqua adesso sale scusate se non ho messo la webcam non so come si fa forse nel prossimo video sto registrando con posso parlare? con ipercambio e questo comincia la webcam quindi vedremo in futuro la webcam basta cazzo dio dono non so neanche se sentite il volume adesso provare a vedere sto video se non si sentite lo carico lo stesso perchè non ho più voglia di sclerare ma basta cazzo ma non puoi far così prima arrivi su block dopo sai vedete 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 ho avuto amalgamato si non ho avuto neanche questo sui ritardo Piano Senti se mi leggo un pochino Il mio Windows non sta Non lasciate finire di parlare Dicevo, il mio Windows non sta Mi sono salvate da una trappola Il mio Windows non sta tanto bene Ha messo anche la febbre Cazzo di porco Adesso sto zitto Adesso sto zitto, cazzo Concentrazione Si E' come assoluta oh baby yes ragazzi si ok finiamo qui questo video vediamo come è il prossimo livello allora se mi ricordo qua c'è una trappola qui da qualche parte non mi ricordo dove ecco l'ho beccata la trappola sono in mezzo sono un vero genio ragazzi c'era qui ecco c'era questo poi attenzione che ok ok ragazzi adesso il dito è un cittadino ma mia madre vediamo come è il prossimo livello bellissimo non è neanche iniziato io vi voglio chiudere qui qui va tu non l'hai notato